Amici di Univet, parliamo di Eurolega perché sono all'orizzonte due gare veramente importanti per le A7 Milano che gioca mercoledì in casa con il Panatine Cos e venerdì trasferta sul campo del Barcellona fondamentale per tenere vive le speranze di accedere ai playoff interrompere l'attuale serie di 5 sconfitte consecutive in Eurolega saranno però entrambe due gare molto difficili per la squadra di coach Repesia la prima con il Panatine Cos, vede Milano affrontare una squadra caldissima che viene da due vittorie consecutive ha battuto il Fenerbahce, ovvero i finalisti dello scorso anno, nell'ultima uscita il Panatine Cos è una squadra molto completa, profonda, con tre giocatori che viaggiano in doppia cifra a livello di media punti segnati Calates, Singleton e Rives, in particolare proprio Calates viene dalla migliore performance della sua carriera in Eurolega visto che è stato dominante nella gara con il Fenerbahce il Panatine Cos difende bene, soprattutto in trasferta, concede 9 punti meno nelle gare giocate lontano da Atene rispetto a quelle casalinghe Milano continua invece ad avere grossi problemi difensivi anche se in campionato ha ricominciato a vincere contro Brindisi credo che sarà molto difficile e temo che il Panatine Cos espuni il forum di Assago l'altra gara di Milano sarà anche questa molto complicata perché l'Olimpia giocherà in trasferta sul campo di un Barcellona che ha vinto soltanto una delle ultime sei e che è una situazione disperata simile a quella dell'Olimpia visto che le vittorie dei catalani finora sono state soltanto 5 in Eurolega, soltanto una in più rispetto a Milano anche per il Barça che ha cambiato tanto dopo qualche difficoltà e qualche infortunio nella prima parte di stagione questa gara rappresenterà una sorta di ultima spiaggia temo che Milano non ce la farà a battere in trasferta il Barcellona e temo che se arriveranno queste due sconfitte consecutive l'avventura europea dell'Olimpia potrà considerarsi chiusa anche se ovviamente manca ancora tutto il girone di ritorno amici di Unibet o dare buon divertimento con i grandi match di questa settimana in Eurolega grazie 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 a tutti.